Salve! Allora? Secondo me mi attaccano, uno, due... Stanno guardando là! Che vuoi fare? E allora? Non c'è più niente! Non c'è più niente... Non ce lo trova? Guarda, guarda come si ritoccano! Ma stanno proprio nel baratro così... Ma sono scimmie, cosa pensi di loro? Non c'è prova, schifo! Che carino!